Alle redazioni giornalistiche trapanesi è stata recapitata una lettera anonima. Le prime parole sono caro Matteo. Poi, ciò che è stato scritto lo è stato quasi disegnando le impronte calpestate da Messina Denaro. Sappi che io ti vedo. Poi, tu che vivi nel caldo tepore dei focolari domestici mazzaresi, sappi che io ti vedo. Ti vedo viaggiare tra Torretta e la Tunisia con il tuo gommone a forma di pane. Ti vedo in quella farmacia di Mazzara lavare via i tuoi malanni. Li vedo poi quei pizzini tuoi volare liberi come gabbiani al Porto Nuovo. E vedo ancora il tuo sguardo preoccupato nel leggere queste parole. Sappi che io ti vedo. Poi, la firma di chi ha scritto la lettera. Uno, nessuno e centomila. Chi scrive si rivolge con il tuo a Matteo Messina Denaro. Dimostra di conoscere luoghi ed attività. E conferma ciò che ipotizzano gli inquirenti. La latitanza di Matteo Messina Denaro è nel territorio. In particolare a Mazzara del Vallo, dove vi sarebbe il covo di Diabolik. E la lettera conferma anche un altro sospetto degli investigatori. Messina Denaro non è in buone condizioni di salute. Probabilmente soffre di diabete. E ha bisogno di cure periodiche. Ciò non impedisce però al capo della mafia siciliana di gestire i suoi affari. Grazie al sistema dei pizzini. Ed il Porto Nuovo di Mazzara sarebbe una delle centrali di smistamento. Nel frattempo la taglia da un milione e mezzo di euro. Sul ricercato numero uno in Sicilia lancia la corsa agli avvistamenti. Vi è chi ha visto Messina Denaro seduto al tavolo di un ristorante irlandese. Chi passeggiare in Francia o in Inghilterra. O in una via di una città del nord Italia. Altre fonti raccontano di un viaggio in Venezuela. Una trasferta d'affari legata al narcotraffico. Grazie a tutti.